Fin da quando ero piccola amo la box. Ho sempre guardato gli incontri nella roulotte di mia cucina perché la sua famiglia ha la tv e mi sono divertita a copiare la tecnica guardando gli incontri, dando pugni all'aria. Però non volevo accontentarmi. Ero sicura che se mi fossi allenata sarei potuta diventare fortissima. Conoscevo dei ragazzi del campo che si sono auto-organizzati e tiravano di box con un allenatore che li seguiva. Mi hanno fatto stare un po' con loro e ne ho anche messo K.O. un paio. Ma poi mi hanno escluso dicendo che la box è uno sport per maschi e che dovrei pensare a cucinare e fare figli. Non mi sono arresa. Sono andata in una palestra dove sapevo esserci anche altre donne che fanno box. Mi sono iscritta. Ho iniziato ad allenarmi ma mi sono accorta che le altre ragazze mi parlavano appena. Mi guardavano male. Non mi invitavano mai ad uscire con loro dopo gli allenamenti. Ridacchiavano quando arrivavo. Insomma, in poche parole, non mi volevano neppure loro. Così non ci sono più andata. Continuo a sognare davanti alla tv. Ma forse il mio destino è davvero quello di cucinare e fare figli. Grazie a tutti.